Taglio del nastro per il parco della Montagnola a San Concordio, riportato a nuova vita grazie al lavoro del quartiere, supportato dalle fondazioni Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Lucca. I lavori sono stati presentati alla Scuola Media di San Concordio. Questo parco è la vostra eredità, la vostra casa e siete voi che potrete curarlo e custodirlo, ha detto la dirigente scolastica Luisa Arcicasa agli studenti della Leonardo da Vinci. Presenti anche la vice sindaco Vietina, l'arcivescovo Castellani e gli altri soggetti che hanno reso possibile il recupero del parco, tra cui la Caritas Diocesana. Il parco è stato rimesso in vita grazie al lavoro coordinato di molte associazioni del quartiere e della parrocchia animate da un tavolo di partecipazione che faceva capo al progetto Asola e Bottone. Il parco è stato, sono state potate le piante della montagnola e le altre piante che lo percorrono tutto, sono stati rimessi in cesto i camminamenti, fatto un piccolo scolo per le acque residue. Sono stati dipinti di nuovo le colonne, i muretti, il muro che corre tutto lungo il vecchio lago del parco, dove sono stati fatti anche dei murales dai ragazzi della scuola. Sono stati dipinti nella zona dell'anfiteatro, del parco, dei giochi tradizionali che i bambini possono utilizzare per giocare, sono stati messi dei cestini per l'immondizia e così via. Una riqualificazione complessiva che ha visto impegnati da una parte l'IRBEB, cioè l'Istituto per la Ricerca sulle Biodiversità, e poi tutte queste associazioni del quartiere che vi dicevo, utilizzando il lavoro di volontari e il lavoro delle persone che vengono assistite dai centri di ascolto Caritas, che hanno avuto la possibilità di sperimentare dei piccoli percorsi di inclusione lavorativa, grazie a questa restituzione di uno spazio pubblico al bene del quartiere.